Allora, questo è il parcheggio dello zoo di Hiroshima e questo qua è lo zoo. L'entrata dello zoo. Pietro, la mamma e i bambini che stanno bevendo. Chissà cosa pensano loro del tuo, la catena, tirala tutta, tirala, tira, 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 tira tutta la catena. E non gioca? Aspetta di stimolarlo. Così? Muzio! Adesso la tira, otto la mia bella macchina. Incora, tira. Adesso. Sì, tira. Tira ancora. Tira, 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 tira. Occhio che tira lui, occhio eh. Lascia un po'. Guarda, le due scimmie. C'è il bambino. La, guarda. Le due scimmiette. Lascia un po' con la corda. Lascia un po' con la corda. Te topi sti robi. Qua. Sai che se si arrabbia è cattivissimo l'elefante. Anche se ha tanto spazio, però, non gli basta. Vabbè, è una sofferenza. Sono solo le bestie. Hanno ragione. Ma lì. Prova di mettere in libertà un animale di questo genere come cento volte più felice. Poi essere tu rinchiusa nelle situazioni di questo genere. Guarda, c'è lì. Guarda, c'è lì. Sta intacendo. Perché li hanno separato? Perché li hanno separato? Ma che gli lalì crei. È bravo però. l'ho visto sì certo che fare un video di slow motion con le tartarughe è impossibile questi due animali che razza sono? che razza sei tu? e tu invece che razza sei? ah lo vuoi? che bello che è che bello ma che cos'è? una patata che occhi che ha? mandrillo ah è un mandrillo ecco perché li chiamano mandrillo e patty patty questo qui chi occhi? sembrano umani davvero? sembra papà non c'era la barba bianca ah perché lo sai perché viene nascosta dei capelli non è vero? ma come un pochettino? e per caso per caso un pochettino sono anche pelato? il papà è anche pelato? è anche pelato il papà? come si? andiamo? ma no non vengo più con te io papà ha tanti ha tanti capelli è certo che è scherzo ma guarda dentro c'è calmo dentro una un tupino come il tais è un altro tupino lì ma questo si è mangiato il suo manutentore vuoi che si chiama? il suo pulitore ma questo ma cosa ha mangiato? è enorme mi hanno dato un colì ma questo è grasso di tutto sembra che è diventato grande perché è diventato grande perché ha mangiato ma guarda non cosa è da qua come uno calmo taiy tan e i suoi fratelli te Grazie a tutti. Grazie a tutti. Acqua per raffreddare i pinguini, non sai che caldo che hanno questi pinguini qua? Sì. Da dove? Sì. Sono bellissi. Adesso dov'è? Il cammello. Due gobboni. Andiamo qui. Papà? Sì, amore. Aspetta che riprendo questi cervi. Non sa cosa sta mangiando. Sì. È bella. Sì. 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 Edoardo. Sì. 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 Edoardo? Tabbaggisti, grati loro. Faici che fa la cacca dentro uno zoo Insieme agli altri animali Questo qua Un bagno Per uomini Tetan Cosa pensi di questa cacca? Stai facendo una grande cacca? Quanto è grande la tua cacca? Così Così piccola? Così Oh, così grossa? Ma che belico Qui addirittura fittano le carrozzine Sì, l'ho pittata, l'hanno scorso Ah, ecco l'ho